Foto ricordo di Natasha Puglisi «E quello cos'è?» chiese il ragazzo voltandosi di scatto verso il cielo. Con la coda dell'occhio aveva intervisto un grappolo di luce a attraversare il blu notte del cielo. Adesso il grappolo sostava proprio sopra di lui. «Che cosa?» Una ragazza se lo scostò da sopra. Intorno il silenzio, solo il rumore del vento tra i fili d'erba, qualche cri-cri di cicale indiscrete. «Ma sono solo luci?» si rispose, delusa. «Di la verità. Hai mai visto luci così?» Il ragazzo si alzò in piedi, estrasse di tasca l'iPhone e tentò di scattare qualche foto. Il grappolo sembrava allontanarsi, quasi risucchiato dal buio. Le foto non avrebbero mai reso bene. «Dai, basta, torna giù!» E la ragazza lo strattonò per i jeans. Un raggio di luna le illuminava il seno nudo. Non credeva possibile che qualcosa come un paio di lucette riuscisse a distogliere quel cretino da tutto quel ben di Dio. «Ma lo sai quanto potrebbero valere queste foto?» rispose quello scattandone un'ultima e prendendo di controvoglia posto accanto a lei. Lei lo baciò, prendendolo per il mento. «E che cosa credi che siano gli alieni?» «Nina, Nina, vieni a vedere qua!» E l'anziano signor Biondi tornò a guardare incredulo alla finestra. «Che c'è, Mario? Non vedi che ho da fare?» rispose seccata quella, mentre uno scroscio d'acqua e un rumore di stoviglia rendeva più difficile la comunicazione per due tipi sordi e attempati. «Ci sono delle strane luci. Non ne avevo mai viste di così. Prima i biondi si affacciò alla finestra sistemandosi gli occhiali sul naso. Talvolta quella vecchia bicicletta faceva brutti scherzi con una cattiva messa a fuoco. E invece no. Le luci rimasero lì. Sembrava si stessero allontanando, ma poi tornarono sulla scena, più vicine di prima. «Non saranno aerei!» rispose l'anziana donna, ma si decise ad avvicinarsi asciugandosi le mani sul grembiule. Rimase a bocca aperta anche lei. «Caspita! Certo che volano bassi, ormai!» I soliti mostri popolavano la stanza di Marco, quando la sera si faceva tardi e tutti andavano a dormire. Se ne stava rannicchiato nel letto e nemmeno tutti gli orsetti di pezza del mondo avrebbero potuto salvarlo dalle ombre che si muovevano minacciose lungo le pareti, o quelle strane mani che vedeva sbuccare da sotto il letto. Mamma e papà non lo capivano. «Accendi la luce e vedrai che ci sei solo tu nella stanza!» Ma era tutto quello che sapevano dire, e poi non riusciva a dormire con la luce accesa. La scelta era difficile, passare la notte in bianco e sopravvivere o farsi uccidere dalle creature della sua fervida immaginazione. E poi era dell'idea che la luce non bastasse, ci voleva un'arma più potente. La luce li poteva solo spaventare per un po', poi avrebbero trovato un modo per aggirarla. E così passava le sue nottate a sperimentare mentalmente Marchingegni degni di un supereroe dei cartoni animati per difendersi dal male, fino a quando non crollava stanco nelle sue stesse fantasie, e i mostri andavano a dormire con lui. Ma non era quella sera. I mostri non erano dentro la stanza, ma fuori. Dalla finestra filtrava una luce fortissima, un grumore assordante, Marco si tappò le orecchie, i vetri andarono in frantumi, tutto intorno a lui cominciò a vibrare. Ebbe appena il tempo di urlare. Ve l'avevo detto che non bastava accendere la luce. E poi più niente. Lampi, fischi, urla, un paio di secondi, e poi di nuovo il silenzio. Le macerie avevano prodotto densi nuvoloni di polveri colorate. Nessuna luce interrompeva più le tenebre. Il buio calpestava il buio. L'odore di carne bruciata sarebbe stato nauseante se... se solo ci fosse stato qualcuno a respirarlo. La luce tornò, tutta in una volta. Una luce innaturale, fin troppo forte, come se il sole fosse stato piantato su quel che restava della città distrutta. Uno scricchiolio metallico, e le grosse macchine calate dal cielo sembrarono sgretolarsi a loro volta, come se ci fossero rese conto soltanto allora del disastroso impatto con il suolo. Ma era tutto calcolato. Dalle viscere di quei manufatti alieni cominciarono a sgorgare forme di vita sconosciute. Le avanguardie si guardarono intorno. Non riuscivano a sollevare la testa da terra. Erano costretti a strisciare per spostarsi. Tutti quegli arti, e non poterne far uso, i loro esili corpi erano letteralmente schiacciati dalla forza di gravità. Uno di loro sorrise tra sé, pensando a cosa stavano già architettando nei laboratori del pianeta madre per far fronte anche a questo problema. Intanto, il test per le armi era andato a buon fine. Sulla terra non avrebbero avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa fosse accaduto e correre ai pari. E già sarebbero arrivati rinforzi, e molto meglio equipaggiati di loro. Il loro compito lì era finito. Misero rapporto tutto. Ciò che avevano visto prima dell'atterraggio, quanto fossero state efficaci le armi sperimentali, cosa era sopravvissuto al loro avvento. Niente. Dopo un lungo giro di ricognizione, poterono strisciare nuovamente verso i loro macchinoni ben soddisfatti. La colonia andava fondata al più presto. Non potevano esserci intoppi. La crisi era troppo grande per potersi permettere atti di misericordia e perdite di tempo. Tutto ciò era inevitabile. Quello degli umani era il pianeta più vivibile e più simile a quello di origine. Solo alcuni di loro provarono pietà per quelle creature così indifese. Cosa aspettarsi del resto, da una specie i cui migliori risultati erano stati un paio di fotografie di un pianeta limitrofo. Erano così insulsi. Ma andavano eliminati. Tutti sapevano quanto problematici fossero gli uomini. Non sarebbero stati buoni nemmeno come servi. Loro avevano bisogno di nuovi spazi, non di nuovi problemi. Doveva essere tutto perfetto. Se anche soltanto alcuni di loro fossero sopravvissuti, sapevano già che non si sarebbero arresi facilmente. Era l'alba di una nuova era, ma nessun uomo sulla Terra avrebbe vissuto abbastanza per raccontarlo. Per questo si erano assicurati che tutti, ma proprio tutti, fossero morti. Non potevano rischiare un tentativo di contrattacco. Adesso potevano ripartire. Te l'avevo detto che erano strane, urlò il ragazzo in preda al panico. La ragazza era più pallida della luna che li sovrastava. Rivestiti e sali in macchina. Dobbiamo andare a vedere.